Finalmente buone notizie dall'Asli di Teramo, perché un gruppo di tecnici marchigiani hanno risolto l'incubo del malfunzionamento informatico che perdurava ad oramai sette giorni. Si chiude dunque la vicenda del blackout dei sistemi informativi dell'azienda sanitaria, che ha praticamente compromesso l'attività del laboratorio analisi, del pronto soccorso, del CUP e della gestione reparti, del registro di sala operatore e delle cartelle cliniche. Tutto è tornato a posto, ieri alle due vi è stata l'esplosione di gioia nei nostri uffici, ma non perché le cose non tornavano a posto, perché i dati ci stavano, era trovare il metodo per far sì che questi dati tornassero al loro posto. Abbiamo cercato di ridurre al minimo l'impatto all'utenza di quello che è accaduto a noi, cercando di soddisfare tutte le richieste, tutte le esigenze. Adesso invece si torna alla normalità e pian piano andremo a ripristinare, noi abbiamo recuperato i dati fino al 24, fino a che sistema andasse in tilt, però adesso dobbiamo rimettere dentro tutto ciò che è accaduto da quella data ad oggi. E lo faremo, adesso insieme ai responsabilisti informativi faremo un incontro unedì e pianificheremo tutte le attività necessarie. Come primo atto la ASLE con la delibera numero 178 del 31 gennaio ha rescisso il contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese, che dal 2012 si occupava della gestione dei software sanitari e annunciando anche azioni legali. Abbiamo ricostruito tutto ciò che è accaduto con chiarezza e ognuno si assume le sue responsabilità, certo è che chi ha sbagliato stavolta paga, perché non è bene che, come possiamo dire, i danni li dobbiamo subire solo noi, è ovvio che noi abbiamo dato questo sistema in appalto per essere più sicuri, invece non è stato così e di conseguenza ieri abbiamo deliberato proprio un atto in cui andremo a porre tutte le azioni necessarie per risolvere il problema.